Il primo record lo batte oggi Longchart. Questo famoso ipodromo non aveva mai visto tanti spettatori. 120.000, di tutti i colori, veramente. E l'agitarsi di queste penne è indice della febbre del pubblico. La corsa dell'arco di trionfo è abbinata con la lotteria nazionale. 28 cavalli attendono che i nastri scattino. Uno scatto, subito un fuoco che sembra dimostrare, perfino nei galoppatori, oltre che nei pantini, la coscienza della loro responsabilità. Stiamo assistendo alla più splendida contesa ipica della Napa. Alla velenza della gara si associa il palpito di una gigantesca roulette che stia interrogando la sorte sul giro di un milio e mezzo di pista. Eccoci alla grande curva. La roulette si pronuncia. Ma non è più un gioco azzardo, è una prova di valore. Forza 25! Da di 25! Forza! Forza che voli come il vento! Da di! Forza! Forza con una Sion! Da di! Con una Sion montata da Poisele è una a tre anni. Ha regalato 60 milioni al possessore del biglietto abbinato a questo 25, la più favorosa vincita che la lotteria nazionale ricordi. e al suo proprietario Bussac ha regalato 15 milioni, un cavallo che è una zecca. per la prima volta di un'altra. Non è meglio! Per la prima volta di un'altra. Per la prima volta di un'altra.